Ed eccoci qua cari amici anche al sabato, sabato 27 marzo pronti eh perché stasera tutti quanti potete andare al teatro, potete andare al cinema perché il 27 di marzo finalmente riaprono il cinema e i teatri. Doveva essere così no? Vero? Cosa dite amici del Niva Show Live? Intanto do il buongiorno al mio ospite qui al mio fianco signore e signori direttamente da Panocia Arturo, buongiorno. Ciao a tutti, ciao Nicola, ciao a tutti. Come è gasato, come è gasato, ma in collegamento ragazzi abbiamo colui che ci dà le notizie estrambe, colui che ci fa un po' da moderatore perché se noi litighiamo io e te, almeno lui fa da moderatore. Signore e signori, Tanno Studio Nord, buongiorno. Ma dove volete andare che non si può andare da nessuna parte? Hai ragione, hai ragione però volevo collegarmi a questa situazione perché effettivamente doveva essere così, avevano detto no? Che il 27 marzo dovevano aprire cinema e teatri e qua invece sembra che vogliono continuare la zona rossa oltre il 7 di aprile. Eh. Fino al 15 hanno detto, però non è ancora sicuro. Mi sembra di aver già vissuto questa esperienza, come l'anno scorso, dal 3 di aprile poi siamo passati alla 13, dal 13 poi siamo andati al 4 di maggio, poi dal 4 di maggio al 18 maggio e poi dopo di che abbiamo per fortuna riaperto. Speriamo che qualcosa cambi con questi benedetti vaccini. Ma dai, non partiamo con la polemica che non va bene, assolutamente. Vai vai. Poi quest'oggi abbiamo un grande esponente della giunta di Panocchia, ci spiegherà un po' come sta affrontando lui l'emergenza vaccini e l'emergenza covid e ci spiegherà. Lo vedo un po' impreparato, ha fatto una faccia un po' strana. Comunque va bene. No, 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 su tutto, eh. Su tutto, su tutto. Sì, sì, sì. Salutiamo tutti gli amici di Nima Radio TV su Facebook e tutti i nostri social. Vi ricordo anche Spreaker.com, il podcast, perché se siete a passeggio non potete mica guardarci. Costa la mica capita. Spreaker.com, cioè il podcast in diretta. Perché andai giù? Ma stai l'ora, sta buono. Tanto, Tonno, ti vedo in maglietta d'ordinanza questa mattina. Sì, sì, sono in maglietta d'ordinanza perché comincia a fare un po' caldino, non c'è freddissimo, anche se qui a Parma c'è un po' brutto, eh. Secondo me oggi va a piovere, però si sta bene. E poi anche per ricordarmi che tra due anni faccio vent'anni di studio. Eh, grande, grande. Festeggeremo la grande, me lo sento, me lo sento. Tira fuori quei soldi lì e organizza un mega concerto. Chiama Renato Zero a Parma per la festa dello studio Nord, va bene? Via, va bene. Salutiamo gli amici di Radio Nova 94.3 o www.radionova.it. Partiamo in musica perché oggi di chiacchier ne faremo tante, eh. Poi avremo in collegamento dalle undici e mezza anche un'amica, Sabrina Bertolani, giornalista, collaboratrice del Nima Magazine e così ce la contiamo su anche un po' con lei, come si suol dire. Non ci sarà la nostra Bea, tornerà la settimana prossima, ma noi abbiamo in qualche modo colmato questa sua assenza invitando la nostra Sabrina e ci terrà compagnia con tante belle chiacchiere perché lei si occupa di tante cose, hai capito? Ah sì. Andiamo in musica, vai, che arriva Oasi, vi porto nelle marche, eccola qua Andrea Bonifazi. E voilà, sentivo dietro le quinte che devi mettere un po' d'olio a quella sedia lì, caro Tonno, eh. Eh sì, è il mio dolce peso. Ma scusa, è la sedia di vent'anni fa, quella lì di diciott'anni fa? No, io le spacco circa una volta o due all'anno le sedie. Allora scusami un attimo, scusami un attimo, quest'anno sono diciotto, tu hai inaugurato lo studio nel 2003. E tre? Primo gennaio 2003. Quando io mi sono sposato, allora faremo vent'anni insieme, vent'anni io di matrimonio tu, vent'anni di studio. Chi è che si diverte? Che data? Non ho capito. Che data tu? L'undici ottobre. Ah, l'undici ottobre. E tu invece? Primo gennaio. Primo gennaio, vabbè giustamente, ogni attività parte il primo gennaio. Eh sì, bisogna fare la partita ogni primo gennaio. Va bene, andiamo subito a leggere qualche messaggino dei telespettatori, a te la parola, caro, vai. Pronti? Ci scrive Giovanni Civera che ci fa una richiesta che mi fa molto piacere. Ciao ragazzi, buon sabato, vorrei sentire Luna Messicana. Grazie e buon weekend. La mitica canzone di Castellina. E buongiorno Nicola e Calogero, buon sabato, questo è Domenico Dardano. No, ma non è Calogero, questo è Arturo, è Arturo e Tpanocia. Secondo me confondono tutti i personaggi. Ma c'hai troppi personaggi, caro amico mio. Va bene, io leggo un messaggio che è arrivato sul gruppo Apriamo le sale da ballo da parte di Perla Grigio che dice quante serate con loro, riferito ovviamente ad Andrea Bonifazi, sono dalle Marche, belle serate, spumeggianti, bravi. Eh sì, ma quante serate ci mancano a tutti noi, ragazzi, le state. Sì, 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 sono bravi, bravi. Che volete facci? Io mi sono un po', come dire, riorganizzato con questi aperitivi musicali, ma non è la stessa cosa, Tonno, non c'è poco da fare. Poi... Eh no, assolutamente, il calore del pubblico live. Esatto, esatto. Per fortuna che in questo periodo di zona rossa sto lavorando al nuovo cd e una volta a settimana ho la libera uscita verso lo studio nord di Vie Callani numero 9 di Parma e così prendo una boccata d'aria. Beh, stiamo facendo un bel lavoro, eh, sono proprio curioso di vedere il prodotto finito. Cosa dici tu? Ormai ci manca poco, eh. Eh, manca cinque canzoni. Perfetto, adesso prendiamo l'altro appuntamento, così ci vediamo in settimana. Allora, accontentiamo l'amico Giovanni Civera, non mi veniva il nome, Giovanni Civera, con Luna Messicano. Ho trovato una versione cantata dall'ultima orchestra Castellina, cioè da Elena Camarone. Eccola qua che arriva. Eh, voilà, questa... Sono sincero, Tonno, io non ho mai sentito questa canzone. A me è piaciuta, è una bella Begin. Tra l'altro so che tu sei amante della Begin, vero? Ti piace? Io sono amante più altra di Castellina. Ho tutti i CD di Castellina, io. Ah, proprio? Della vecchia formazione. Della vecchia formazione. Questa... Questa luna messicana è datata 1985, quindi ha un bel po' di anni, eh. Cioè potremmo fare un telemic su Castellina con te. No, non so proprio tutto, ma... Adesso allora, la prossima volta che verrò a registrare, porterò la telecamera, andrai tu nell'acquario con le cuffie e io dalla regia farò le domande. Allora, signor Tonelli, in che anno risale la canzone Lupin? Vediamo se lo sai? Lupin, Lupin, Lupin dovrebbe essere il volume 24. Eccolo, eccolo. Grande, grande, mi fa piacere. Andiamo ancora con i messaggi e dopo parliamo un attimo con l'amico Arturo, perché dobbiamo capire come si sta organizzando lui. Un messaggio da Roberta Bertinelli. Buongiorno carissimi amici fantastici Nicola, Maio e Tonno. Vi auguriamo di cuore uno splendido fine settimana, vi abbracciamo fortemente Robby e Riccardo. E poi ci saluta anche Barbara Aimi. Buongiorno a tutti e naturalmente giriamo il buongiorno anche a te. Bene, bene, mi fa piacere. Mentre stavo preparando la canzone, allora parliamo di questa situazione un attimo che doveva essere proprio al via quest'oggi, 27 di marzo, dovevano aprire cinema e teatri, ma era ubriaco colui che l'ha scritto, cioè colui che lo disse, no? Perché l'han detto mica tanto tempo fa, cioè non hanno visto la situazione in cui viaggiavamo praticamente per illudere ulteriormente i gestori di cinema e di teatri, cioè veramente per me è una vergogna. Io lo dico apertamente, poter dire, come il discorso adesso diciamo che dopo Pasqua partiranno le scuole, no? Me lo auguro da una parte perché la situazione comunque con i bambini a casa è veramente, crea disagio alle famiglie e poi dopo dovessero arrivare il set che dicono no, non riusciamo ad aprire le scuole, ma almeno state zitti, fatelo quando siete sicuri. Vero, cosa dici donno? Esatto, ma soprattutto l'apertura dei cinema in zona rossa che non si può andare in giro solo per motivi di assoluta necessità tipo lavoro e salute, cosa serve aprire il cinema? Che non ci si può andare. No, e poi tra l'altro ne parlarono in un momento dove naturalmente qualcuno era ancora giallo e arancione, ci mancherebbe, si poteva andare in zona gialla, però la crisi comunque riguardo ai contagi era molto presente e si sapeva già dove si andava a parare, no? E buttar fuori questa notizia, vabbè, ne parleremo magari con Sabrina che essendo giornalista ascolteremo il suo parere da giornalista. Mentre invece tu una grande sala, un grande cinema, un grande teatro a Pannocchia, cosa hai fatto sindaco Arturo per portare un po' di pace al tuo paese? Anche io volevo portare un po' di cultura, no? Un po' di cultura nel mio paese, sì, allora avevo incominciato a fare un cinema che fa poi anche da teatro, no? Perché il cinema e il teatro sono insieme, no? E poi volevo fare anche una saletta da ballo, no? Perché, sai, bisogna anche ballare, muoversi, e niente, mi hanno bloccato anche me. Ecco, allora è quello che alla fine succede in tutta Italia. Ma quando siamo bianchi il riparto alla grande, vabbè? Ma diventeremo bianchi? Chi lo sa? Dovemo aspettare giugno secondo te, Tonno? Cosa lunga, eh? Che però continuiamo, cioè finisce. Un po' basta, un po' basta, assolutamente, proprio qua, dal 27 marzo, tirare fino al 18 maggio in queste condizioni non è così semplice, ormai stiamo, perché forse l'anno scorso non sapevamo a cosa si andava incontro, adesso sappiamo cosa vuol dire chiusura e veramente ormai la psiche ne sta risentendo tanto. Andiamo in musica, beh, neanche a farla apposta, ho una canzone giusta, Non ci sto! Bello! Bomolo! Apriamo tutto e via andrà. Eccoci qua, siamo rientrati e rientrando con la nostra immagine vedo già pronto il nostro Tonno con dei messaggi da leggere. Vai caro, vai! Tanti messaggi, mi fa molto piacere, arriva Rodolfo Ranieri, ciao Nicola, ieri non mi sono potuto collegare e ti chiedo oggi se puoi mandare musiche e parole per la mia signora che ha compiuto gli anni ieri. Grazie e un saluto a te, a Maio e alla regina Monica. Grazie Rodolfo, molto gentile! Il nostro Tonno c'è! Il sabato è tutto al maschile, a parte il collegamento che abbiamo di solito con la Beatrice, quest'oggi con Sabrina Bertone. Basta, ste donne che vogliono comandarci, al sabato siamo liberi, usciamo di casa. Marisa, Marisa la sinora! Vai, vai Tonno! Altri messaggi, Patrizia Pugliese, buongiorno, diventeremo tutti bianchi, anzi bianchissimi se ci traranno sempre chiusi in casa. Abbiamo un solito di sole! Non riusciamo a prendere il sole, chi è che lo dice questo? Patrizia Pugliese! Patrizia Pugliese, hai ragione cara Patrizia, e poi ho visto che hai riscritto anche l'amica Barbara. Ah sì, c'è ancora c'è anche Barbara, buongiorno a questo trio pieni di allegria, nonostante il periodo, meno male che ci siete, un abbraccio a voi e a tutto il fans club. Poi c'è anche Vanaturci, buongiorno trio, dai dai dai, speriamo bene! Che bello, ci chiameranno il trio, buongiorno trio! Cosa dici? Come il trio Medusa! Come il trio Medusa! Trio Lescano! Ascolta, ne approfitto per fare pubblicità, il mio aperitivo di domenica. Avevo preparato una canzone mia di Monica, non era quella che aveva richiesto Rodolfo, ma l'ho cambiata al volo perché è giusto accontentare gli amici che ci seguono. Eccola qua, intanto la slide, Nima Natur, aperitivo musicale con Nicola Marchese, domenica 28 marzo, ore 18, Nima Radio TV, Facebook e YouTube e in più su Instagram, caro Tonno, tu che hai anche il profilo Instagram, tu ce l'hai Arturo? Sì, c'ho già il profilo, eccolo lì! Basta trovare appunto il profilo di Nima Radio TV ed entrate dietro le quinte dell'aperitivo musicale, cioè vedete un qualcosa che quelli di Facebook e YouTube non vedono. E in più, da questa settimana, cliccando, no, non metta, no, cosa hai capito? La battuta l'ha già fatta la Monica ieri, lo troverete senza pantaloni, no, assolutamente ci mancherebbe, noi siamo seri. Ma sono seri anche coloro che fanno altre cose, perché ho sentito ieri un servizio alle Iene che ragazzi guadagnano tanti di quei soldi, con social diversi, forse siamo noi che non abbiamo capito niente dalla vita. Dai, va bene così. Riccola, tu sei prestante, quindi potresti, io non ho niente da mostrare. Beh, vi faccio un profilo a te Arturo e organizziamo qualcosa, dai, perché no? Dai, si scherza, si scherza. E stavo dicendo che cliccando la telecamerina vi potrete collegare con il sottoscritto e gustarvi una canzone in prima fila, come se aveste pagato un abbonamento. Eh, però in questo caso basta cliccare il tasto. Se funziona, ve lo farò pagare dopo l'abbonamento. Va bene, giusto? Giusto, Tonno? Cos'è, cos'è quel lavoro lì? Cos'è? Io clicco, ma non succede niente. No, ma non adesso, non adesso, non c'è, non c'è. Va bene, dai, abbiamo visto il tutto, dopo parleremo anche di Nima Natura, intanto arriva musica e parole dedicata da Rodolfo Rignieri alla moglie, alla moglie, alla moglie, alla moglie... Non c'è scritto. È la signora, c'è scritto signora, non c'è il nome. La signora. Tanti auguri di buon compleanno. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Dominzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Per la tua pubblicità nel NIMA Show Live contattaci al 393 1912 091. Eguela cari amici siamo rientrati e avevamo bisogno anche del tocco femminile in questa puntata caro Tonno e caro Arturo portate pazienza va bene il trio però diamo il benvenuto alla giornalista nonché collaboratrice ma ormai posso dire anche amica perché comunque ci troviamo molto bene insieme signore e signori Sabrina Bertolani buongiorno buongiorno a tutti ormai siamo una grande famiglia direi esatto esatto poi dobbiamo anche ricordare Sabrina che lunedì presenteremo anche la rivista di aprile dopo ne parliamo sì c'è molta attesa c'è molta attesa quando c'è la presentazione di NIMA Magazine c'è sempre molta attesa mi fa molto piacere come stai innanzitutto bene abbastanza bene siamo a casa come tutti ovvio tra l'altro ti sei ti sei come adeguata alla la zona rossa perché vedo il divano rosso i tulipani rossi anche l'altro l'altro fiore di fianco è rosso cosa dici colori preferiti il rosso effettivamente sì perché da poi da un tocco di vivacità credo un po' di colore ci vuole esatto esatto oggi di che cosa parliamo sono molto curioso ne abbiamo già accennato l'altra volta siete curiosi ragazzi voi sì 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 vero parliamo di donne tonno sei pronto sono tutto orecchi ecco lo sapevo parliamo di donne e che donne perché dovete sapere cari amici della NIMA show live la nostra Sabrina oltre che collaborare con noi con altre trasmissioni altre testate giornalistiche di sport però ha una sua pagina e l'avevamo già presentata l'altra volta sub advance così si chiama si sa va va eccolo il marchio eccolo lì facciamo vedere così magari se qualcuno è esatto così basta andare sui sulle pagine sul profilo instagram e inserire il vostro like esatto esatto è una pagina che ormai ha già compiuto due anni è nata per scherzo vuole essere una pagina di svago un po di così un po di tempo libero un po di di svago esatto secondo me la parola giusta do spazio molto alla cucina perché vedo che è molto sono molto interessati anche gli amici di Facebook e Instagram ricette che mi mandano amici quindi che non faccio io ma tutti gli amici che partecipano e sono contenti di partecipare pubblicare le loro ricette e poi abbiamo delle rubriche pari e tra cui una rubrica di erboristeria c'è una una ragazza che poi vedremo fa parte anche del discorso successivo che collabora che mi manda sempre dei pezzi molto interessanti e poi moda poi cultura poi varie varie un po di tutto un po di più soprattutto la cucina direi che in questo periodo di lockdown sta sta facendo faville vero tonno ahimè e ai noi noi ingrassiamo con tutte queste bontà che cuciniamo esatto anche perché non potendo andare in giro alla fine si cerca comunque di ammazzare il tempo impastando pizza focacce di tutto ma io lo facevo anche prima ah sì lo facevo anche prima va bene detto ciò cominciamo ad andare in musica dopo la canzone scopriamo il primo personaggio va bene Sabrina perché è molto curioso è sul gossip in questo momento il primo personaggio che comunque tra nella mia pagina c'è anche tutti i mesi una rubrica che dedicò a una donna e una donna e un uomo del mese quindi le donne sono ne ho pubblicate tante sono già 15 e tra queste ce ne sono alcune già molto famose esatto beh ma mi viene da dire una cosa sono diventate famose dopo essere state pubblicate sulla tua pagina no perché io non vedo l'ora a sto punto non diciamo non diciamo niente va bene ok ci sarà una sorpresina che ti riguarda va bene ok 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 andiamo in musica e arriva il nostro tonno tonno portami in salvador va bene va bene salvami tu da questo lockdown eccoci qua siamo rientrati dopo un bel che cos'era questo non una cumbia sì un bel salvador esatto esatto ma siamo pronti intanto vedo un bel messaggio della nostra cocò se vuoi leggerlo e poi dopo andiamo in avanti con i nostri argomenti certo buongiorno nicola un abbraccio a tutti un bacio a sabrina maio e tonno buon weekend da parte della nostra monica bene 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 ne approfitto adesso che ti mando in in onda cara sabrina puoi salutare anche tu monica vai sì grazie monica un bacione grosso ci vediamo lunedì sera in diretta esatto siamo pronti sabrina siamo pronti a parlare un po di donne io sono molto contento soprattutto no non per quanto riguarda il discorso appunto del senso femminile ma per quello che fanno per le cose che realizzano ed è bello vedere tutte queste donne che vanno avanti nelle nelle carriere e questo mi fa tanto onore vero cosa dici io ammiro anche te sabrina perché ti dai da fare sei peggio che me quando c'è da fare una cosa tata 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 via grazie grazie cerco di impegnarmi sono quello che faccio cerco di farlo bene sono almeno mi impegno ovviamente sono donne più o meno conosciute che però hanno qualcosa da raccontare qualcosa di particolare della loro vita del loro essere e lo hanno raccontato a me pubblicate su sab advance con delle belle foto diciamo che è stato e sta avendo grande successo questa rubrica me ne rendo conto ogni mese sempre di più bene e vediamo ora partiamo che la prima che conosciamo bene ed eccola qua in sovrimpressione al tuo fianco chi è è bella nostra valentina cristiani la nostra valentina eccola valentina che alla quale mando un abbraccio un bacio anche lei e ci siamo conosciute grazie appunto a questa intervista valentina una giornalista è molto conosciuta è una giornalista sportiva e anche un ex allenatore di calcio non dimentichiamolo a questo non mancava sai è allenato ecco vediamo appunto la la il promo diciamo del del mese di luglio dello scorso anno e coltabora con diverse testate giornalistiche quella gazzetta di parma la nuova ferrara il corriere dello sport nella pagina di bologna e fa programmi televisivi in più è anche è una collaboratrice di nima magazine questo direi che è la cosa più importante direi permettetemelo ci riguarda molto da vicino e sono molto contento di averla nella nostra squadra e a te ancora la parola vuoi aggiungere qualcos'altro si è anche scritto un libro di successo che vediamo nel promo c'è la copertina del libro calciatorino grazie che ha presentato in varie trasmissioni televisive e anche sulla rai su medias e quindi insomma valentina roba è sempre un in bocca al lupo perché la sua professionalità e la sua bravura possa arrivare veramente a tutti e possa sempre avere un grandissimo successo questa immagine che vedete sotto la scritta la donna di luglio sabbat bans che che ritrae valentina con il suo libro a fianco questa immagine qui è stato un collage un collage di una di una mia intervista e lei mi ringraziò perché diverse televisioni diverse testate giornalistiche poi l'hanno hanno preso questa immagine per pubblicarla quando comunque avevano le varie le varie interviste e insomma nel mio piccolo mi ha fatto molto piacere capito ho dato il mio contributo allora facciamo una cosa andiamo ancora in musica e diamo tanti baci alla nostra valentina arriva baci 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 di daniele cordani baci 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 a nostra valentina magari ci sta seguendo però so che è molto impegnata ultimamente con un lavoro che la porta sempre in liguria complimenti in bocca al lupo per tutto cara valentina andiamo avanti con prima di dare la parola a sabrina e parlare della prossima della prossima amica della prossima donna del mese tonno ti eri preparato la notizia stramba da leggere dai facciamoci due risate in partenza ce n'ho ce n'ho una da dirti sono i sette oggetti più strani che ho trovato su amazon ai e i sette oggetti più venduti più strani più strani esatto venduti più strani e allora cominciamo col primo oggetto che ho trovato che è una luce a led per dare colore al vostro vc per 30 al al vostro vicino 13 euro e 99 al vostro vicino vc allora avevo capito bene si è una luce che si incolla senza spiegarlo abbiamo già capito dove va non ti preoccupare così uno una centra c'entra meglio ecco magari per i maschietti visto che siamo famosi no dicono le nostre donne che siamo famosi per farla fuori no io ci voglio mettere questi let ecco esatto vai vai caro la seconda che ho trovato visto che siamo nell'ambiente c'è la carta igienica con il sudoku per ingannare un po il tempo guardate questa roba qua ma roba da matti fantastica esatto va bene lasciamo adesso perdere l'ambiente usciamo ho trovato una tazza auto mescolante per chi non vuole sporcare il cucchiaino a 15 euro e 39 scusami se non vuole sporcare il cucchiaino cosa fai dopo non lo prende proprio si mescola da solo c'è un meccanismo che si mescola siamo diventati così pigri che addirittura non vogliamo mescolare il caffè o il latte c'è una roba da matti andiamo avanti va avanti 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 un dispenser per sapone liquido a forma di naso se qualcuno vuole ok uno schiaccia il naso esce esatto poi c'è un corno da gatto perché se non puoi avere un unicorno puoi sempre trasformare il tuo gatto in un gatto magico per la modica cifra di 8 euro e 50 bene ne mancano due ne mancano due uno scopino per vc a forma di microfono per te nicola che sei un cantante se vuoi esprimere ma ma perché sei andato su sti prodotti qua io non lo capisco cioè invece e invece al primo posto il mio oggetto preferito che lo riproponiamo lo carina a forma di cetriolo per suonare le vostre musiche pasquali preferite quello è il mio ma perché mi chiedo la forma di cetriolo intanto c'è un bel messaggio di dora che dice che belli argomenti stamattina siamo in bagno e beh diciamo che il periodo è un po così ma passerà passerà dai vedo vedo la nostra sabrina che si fa una risata anche anche lei con chi è che li compra però tutti questi oggetti però se sono nella top ten anche se sono solo sette vuol dire che comunque sono venduti dai passiamo a qualcosa di veramente importante e qui parliamo di gossip ragazzi state attenti perché ci parla la nostra sabrina di una personaggio che dopo la sua intervista ragazzi ha preso il volo è vero è vero la nostra donna di agosto dello scorso anno che io intervistato in luglio fine luglio signore e signori vado in sovimpressione con l'immagine eccola che arriva è tac guardate un po' maria laura de vitis e chi è maria laura de vitis beh diciamo che ormai è tra le regine del gossip in questo periodo perché dopo appunto l'intervista ha conosciuto paolo brosio con il quale si è fidanzata da alcuni mesi e quindi è in tutte le trasmissioni media set d'urso pomeriggi sera sembra che partecipi anche temptation island con appunto paolo brosio topolina e topolino in esatto la topolina era la donna di agosto di sab advance dello scorso anno e come una curiosità aiuto a chiederti come sei venuta in contatto con questa ragazza come l'hai conosciuta tramite la madre tramite la madre che è una mia amica su facebook diciamo che lo scorso anno lei comunque lei era già famosa perché comunque ha partecipato a miss italia miss universo una bellissima donna fa sfilate faceva la modella e l'anno scorso le hanno tra virgolette rubato il profilo instagram e quindi è dovuta ripartire da zero con i followers adesso ne ha più di 70 mila e da lì diciamo sono venuta a conoscenza di questa ragazza tramite la madre e l'ho contattata per poterla intervistare e dopo lei ha risposto di sì una ecco questo spero che che l'intervista di sab advance le abbia portato fortuna e le porti fortuna sempre tutt'ora tutt'ora allora aspetta un attimo sabrina perché qua adesso interveniamo con il gossip a noi piace fare a noi piace fare il gossip aspetta un attimo perché adesso pongo una domanda al maestro del gossip e il sabato lui sguazza in queste cose quando si riesce allora mi chiedo caro tonno quanto amore ci può essere dietro questa storia o quanta pubblicità ci può essere dietro questa storia cosa dici tu eh eh vallo a sapere io una mia idea ce l'ho però non so se la posso dire perché sia perché sia corretta cioè voglio dire educata è correttissima allora io spero veramente che loro due siano innamoratissimi e lo spero tutti e due più per brosio che per la ragazza devo dire però io temo che la differenza di età sia un po' troppa e che tutta questa operazione sia un po' ma ci può stare che comunque una una storia parta parta veramente con il conoscersi e poi arriva arriva comunque all'innamoramento lì per lì poi comunque il mondo può piacere vero sabrina perché comunque entri in un vortice e vieni coinvolta in un vortice di cose che comunque ti possono eh prendere in quel momento però dopo la differenza di età perché fa presto barbara d'urso dice ma noi noi siamo contenti se ci sono a venti anni in meno e noi ma noi non dà fastidio ma col passare del tempo è inevitabile o sbaglio sabrina cosa ne pensi tu che certo certo no no sicuramente anche perché la differenza è tanta circa una quarantina d'anni quindi insomma lei ha 22-23 anni quindi è una ragazza molto giovane io dico sempre che la cosa importante è che loro siano felici punto eh che qualsiasi sia la situazione certo io spero che lo siano e auguro tanta fortuna e tanta felicità a Maria Laura che ha avuto l'occasione e di intervistare appunto l'anno scorso e vedremo dove arriverà perché comunque si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo vedremo dove potrà arrivare questa ragazza che comunque è molto bella molto volenterosa mi sembra che che comunque abbia voglia di lavorare possiamo dire a suo favore una cosa che comunque era già nel settore cioè non è che questa ragazza è saltata fuori dal nulla ed è stata buttata lì in televisione lei era già modella cioè alla fine è stata Miss Italia Miss Universo come hai detto alla fine era già nel settore dello spettacolo questo sicuramente adesso chiaramente è arrivata alle tv nazionali quindi è un palcoscenico diverso e poi si è fatta conoscere è un po' da tutti appunto è molto seguita è molto apprezzata come come ho detto prima le auguro tanta fortuna tanta felicità esatto le auguriamo di attraversare il mondo con questa bella esperienza ci ascoltiamo questa canzone di Daniela Cavannad eccola qua attraversare il mondo amici vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese spegni la luce mare mare stella del nord un angelo nel blu ed ecco le ultime novità grazie musica musiche parole per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091 concedetevi una pausa con Express la qualità in distribuzione automatica distributori di bevande calde e fredde snack area break prodotti complementari disponibile caffè in capsule Express via Dominzoni 110 a Gattatico di Reggio Emilia telefono 0522 6723 92 oppure numero verde 800 911 770 antica tenuta Santa Teresa ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef paolo dall'asta ed il suo staff la famiglia ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140 per la tua pubblicità nel nemash live contattaci al 393 19 12 091 arrivo un giorno per chi si fosse collegato in questo momento nelle nostre pagine social sulla radio 94.3 radio nova www.radionova.it e stiamo parlando di donne siete contenti ragazzi Arturo ah che bello le donne ecco tante donne che stanno facendo tante cose nella vita sì sì viva le donne viva le donne che sono le colonne dell'amore dell'amore diceva una canzone certo tonno tu cosa è un bel sabato frizzantino dai un bel sabato finalmente come vuol dire che fino adesso non sono stati dei bel sabati no scusami eh no no sono sempre belli i nostri sabati però io è la prima volta che conosco la nuova giornalista che hai invitato tra l'altro tutta di rosso tempestata che rosso è il colore anche dell'amore ecco vedi cosa dici tu sabrina sì intorno perché poi ho la giacca bianca quindi diciamo il bianco purezza ecco è purezza è purezza è arrivato un messaggio tonno però quest'oggi il messaggio è un po' cortino abbiamo il nostro Luca affranto perché non c'è in collegamento la sua Beatrice lui aspetta sempre la Beatrice con le notizie di Redacon ma lo fa per le notizie non tanto per la Beatrice diciamo la verità Luca porta pazienza abbiamo dato un po' di vacanza alla Beatrice il prossimo sabato ci sarà però guarda che bel messaggio che ha mandato per la nostra Sabrina leggi leggi certo lo leggo subito Luca Vitali un saluto speciale alla bellissima bravissima e simpaticissima Sabrina Bertolani poi scrive ieri ti ho dato l'amicizia su Facebook firmato il vice presidente Luca Vitali hai capito Sabrina? allora bellissima bravissima e simpaticissima che poi ci credo attenzione intanto dormi un sonno tranquillo questa notte perché Luca Vitali ti ha dato l'amicizia su Facebook o meglio non so se te la richiesta è così se te pari adesso ma andiamo avanti con i nostri personaggi quale donna ci presenti? una donna che sta facendo una carriera spero molto importante a livello calcistico una ragazza giovane è una bellissima donna che si chiama Michela Cambiaghi figlia di Cambiaghi ex giocatore del Milan che è il centro avanti del sassuolo calcio femminile che anche Domenica ha segnato e lo scorso anno Donna Moderna le ha dedicato una copertina della rivista e tra l'altro la vediamo qui in sovrimpressione perché una foto come potete vedere c'è quella più grande del suo profilo e sotto c'è appunto la copertina di Donna Moderna sì che era la donna di ottobre dello scorso anno e tanti auguri un grosso in bocca al lupo a questa ragazza speriamo che possa arrivare anche in nazionale quindi un appello a Milena Bertolini perché la convoca in nazionale in nazionale femminile di calcio e speriamo insomma che questa ragazza possa avere un grandissimo successo perché ci tiene molto diciamo che ha la sua carriera calcistica mi fa molto piacere e c'è da dire che qua ragazzi le donne ci danno del filo da torcere a noi aumenti quando ci si mettono in tutti i settori hanno una marcia in più diciamolo Dillo Tonno cosa dici tu? assolutamente occhio perché hai tua moglie di fianco che ti sta ascoltando stai attento assolutamente si sa dalla notte dei tempi che hanno una marcia in più io spero per questa ragazza calciatrice che diventi il Cristiano Ronaldo wow e beh allora direi che una carriera in tutta salita e allora dedichiamo lei una bella canzone di Claudia Band dal titolo salirà ovviamente questa grande carriera ecco la salirà la voglia che ho di te la voglia di stare insieme a voi ma che bel sabato che bel sabato vero Tonno che sta saltando fuori mi fa piacere guarda com'è tutto arzillo il nostro Arturo mi piace mi piace dai 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 andiamo avanti e di che cosa parliamo adesso di chi parliamo Sabrina eh parliamo di Paola Guidetti direi Paola Guidetti eccola qua che arriva eccola insomma impressione era donna di novembre sì bellissima bravissima una giornalista bravissima eh per chi è della zona la conoscerà sicuramente beh io l'ho conosciuta avendo avuto a che fare anche negli studi dell'altra emittente televisiva lo diciamo te la reggio comunque ho avuto modo di conoscerla esatto poi ha fatto programmi anche in Rai eh qualche anno fa e eh è stata la protagonista anche del corteo matildico a quattro castella e ha interpretato Matilde di Canossa insomma un grande personaggio una grande personalità adesso si occupa di sociale si occupa di tematiche eh sulle donne sulla violenza di sindacato beh comunque è una questo è un bella un bel argomento eh molto impegnata e è veramente una gran persona ecco oltre ad essere un gran personaggio una gran persona perché la conosco personalmente è un'amica e le mando un grandissimo abbraccio sicuramente allora eh lei ha fatto Matilde di Canossa io vedo pronto un Enrico IV chi è che dei due vuol fare Enrico IV nella rappresentazione Arturo Arturo nei panni di Enrico IV sì ma non arrivare in trattore però no no non arrivare a cavallo che cavolo andiamo ancora in musica dove parliamo di oh ma scusami Sabrina quando sarà possibile trovarsi di persona no con queste zone e quando saremo bianchi non riusciamo a organizzare qualche ospitata qua in studio con queste belle donne e farle parlare in prima persona cosa dici? volentieri volentieri perché no dai 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 qualcuna accetta l'invito e viene a parlare perché poi ci sono anche storie molto interessanti sono belle e brave persone belle fuori e belle dentro esatto quindi tu c'è qualcosa da raccontare secondo me potrebbe venire una bella trasmissione perché no è come direbbe Maria De Filippi la nostra amica ha accettato l'invito apriamo la busta e andiamo avanti con questa bella canzone dal titolo il tempo passa Annalisa D'Aloia per voi beh il tempo passa effettivamente siamo quasi in chiusura mancano giusto dieci minuti ancora in nostra compagnia e questa mattina è volata via in mezzo tante belle donne che abbiamo visto soltanto in cartolina però pazienza dopo arriveranno con le ospitate e ce l'ha promesso Sabrina non si può assolutamente tirare indietro dall'invitarle vero? certo riusciremo a fare sicuramente qualche diretta anche con qualcuna di loro volentieri e andiamo avanti con un'altra qui ho preparato signore e signori presentala tu dai Maria eccola qua è lei? sì Maria Anastasi la bella emiliana del 2017 una bellissima donna una dottoressa laureata in erboristeria che è diventata collaboratrice anche della pagina sub-advance e tutti i mesi ci regala dei consigli ci regala così alcune nozioni di erboristeria alcune alcuni articoli veramente molto interessanti lei è la protagonista del mese di febbraio dello scorso anno adesso fa anche la modella come vedete delle foto bellissime aspetta un attimo fammi capire fammi capire ha cominciato a collaborare con te e è diventata modella com'è sta storia? no perché faceva già poi dopo no perché sennò ti scrivevo qualcosa anch'io per te non c'è problema scherzo ci mancherebbe no veramente anche lei una bellissima persona molto brava sia nel suo lavoro sia anche in questo hobby che ha mantenuto dopo questa elezione della bella emiliana e quindi sta facendo degli shooting sta facendo dei servizi fotografici sfilate quindi insomma è un personaggio anche lei è veramente molto interessante ok non abbiamo le altre immagini perché sennò ce ne sono veramente tante e il tempo ormai a nostra disposizione il tempo a nostra disposizione non è ormai tanto e facciamolo un breve accenno alle altre ragazze perché ci sono storie anche particolari se non sbaglio allora intanto un saluto a Sabrina Costi che è stata la prima donna del mese dello scorso anno di gennaio che è un ex assessore che lavora adesso in una multinazionale della cosmetica poi Raffaella Dugoni che è una cantante blues e soul e poi una nostra amica perché ci segue sempre nelle dirette di Nima Magazine che è Monica Gottardi di Bologna ciao Monica grazie continua a seguirci e poi c'è Aurora Preda che fa la make up artist ha fatto la make up artist a Sanremo per Vipa anche quindi una bellissima donna e una bravissima bravissima make up artist poi abbiamo Rose di Terlizzi che si è reinventata aprendo un negozio di abbigliamento a Milano anche lei è una storia molto interessante abbiamo Vanessa Costa che fa la psicologa sportiva abbiamo Elisa Bologna Borciani che è una copywriter ha scritto già tre libri e da in procinto anche a proseguire a scrivere anche il quarto e poi questo mese l'ho dedicato visto che avevo voglia di leggerezza avevo voglia di mare voglia di estate a Giulia Casadei che è animatrice turistica e si è trasferita a Fuerteventura poi ci sono due storie che vorrei accennare brevemente che sono una è quella di Claudia Claudia Tramice che fa la modella per divertimento lei fa tutt'altro lavoro è un'operaia ma si diverte a fare la modella che però ha una storia alle spalle di molestie una storia che abbiamo solo accennato nella pagina che però lei ha raccontato in maniera più approfondita in un programma su TV8 a Enrica Bonaccorti e lì si vede proprio la donna che è uscita da questa storia la positività di questa ragazza che è comunque riuscita a reinventarsi comunque a saltarci fuori e a trovare uno sbocco su nella sua vita e questo mi fa piacere un'altra invece che si chiama Barbara Iemmi che era la donna di giugno dello scorso anno alla quale sono molto legata personalmente perché abbiamo condiviso una storia purtroppo insieme che adesso chiaramente è finita bene ma comunque un episodio della nostra vita e lei è stata operata al seno e dopo questa sua operazione ha deciso di impegnarsi nel volontariato e lei fa la volontaria in un'associazione che si chiama Senonaltro che aiuta le donne operata al seno ed è molto molto attiva in questa associazione quindi queste due storie che comunque sono importanti anche da raccontare certo perché comunque in questa situazione tu tratti anche argomenti scottanti non è soltanto intrattenimento o bellezza quello che comunque si fa vedere tramite le foto però ci sono anche storie da scoprire allora ricordiamolo Sabatvance su Facebook e Instagram è così potete andare a gustarvi non fa morire non fa morire già pronta con la slide in sua impressione però ci sarà una novità possiamo anticipare qualcosa per maggio o no? beh intanto abbiamo aprile diamo appuntamento il primo di aprile la donna del mese e lì sarà una sorpresa una ragazza giovane posso solo anticipare che è una cantante e il 7 di aprile con l'uomo del mese bene per maggio avremo una sorpresa appunto una sorpresa di qualcuno che conosciamo tutti bene chi è dei tre facciamo bim bum bam dai va bene dai sarò io sarò io visto che comunque a maggio è il mio compleanno la cara amica Sabrina ha voluto dedicarmi l'uomo del mese wow ragazzi farò carriera dopo questo chi lo sa ma aspettiamo io te lo auguro ma già è una carriera molto importante molto interessante molto bella è questo dobbiamo dirlo non ti sottovalutare anche guarda io mi diverto stando qui con i miei amici non voglio abbandonarli me li porto dietro andiamo in musica dai che arriva oh ragazzi a fuori di parlare di tutte queste belle donne sta tornando fuori il sole ve ne siete accorti ve ne siete accorti me l'ha detto me l'ha detto l'amica Sabrina perché io da qua dallo studio non lo vedo ecco qua che arriva la danza del sole con il nostro Mario subito dopo ci saluteremo a mezzanotte sai che io ti penserò ovunque tu sarai sei mia perché abbiamo iniziato così perché la canzone preferita della nostra Sabrina vero? si poi mi commuovo però eh allora approfitto per ricordare il mio appuntamento dell'aperitivo musicale allora te la gusterai cercherò di cantartela senz'altro domenica Nima Natur presenta l'aperitivo musicale con Nicola Marchese domenica 28 marzo alle ore 18 Nima Radio TV Facebook e YouTube in più la novità è Instagram ragazzi tramite il profilo Instagram potete guardarvi un po' dietro le quinte e in più ascoltarvi una canzone fallo anche tu Sabrina ti aspetto domenica alle ore 18 mi raccomando poi vi ricordo visto che ci siamo la pagina Facebook Nima Natur per quanto riguarda i nostri prodotti l'ecosostenibilità uno stile di vita cliccando sul tasto ordina vi porta ovviamente al nostro sito di commerce dove potete trovare tutti i vostri prodotti interessanti per la cosmetica e per la nutrizione e quello che volete insomma dateci un'occhiata perché sono prodotti veramente importanti siamo arrivati al termine ringraziamo la nostra ospite Sabrina grazie di cuore per questa partecipazione grazie a voi grazie a tutti un saluto a voi a tutte le donne del mese di cui abbiamo anche parlato che sicuramente ci stavano seguendo e lunedì l'appuntamento sarà con la diretta alle ore 20 e 30 con la diretta appunto della presentazione del Nima Magazine di aprile grazie Tonno ti saluto a te e tutto lo studio nord grazie un saluto a tutti e ci vediamo sabato prossimo e noi ci vediamo in settimana perché devo venire a registrare altri brani che sia chiaro non ti abbandona amico mio non ti preoccupare assolutamente buon Arturo invece ci vediamo alle ore 13 e io rimango qua esatto canale 78 per una bella puntata di Vado a Liscio con dediche e richieste e ci lasciamo con questa bella canzone dell'orchestra Bagutti ciao Sabrina e ciao a tutti voi straniero eccola qua bye bye bye